E' dimagrito, mister? Che io? No, uguale. E lo spirito anche uguale rispetto a questa penisità? Sì, nel senso che ci credevo prima e ci credo... Sono stati persi i 70 giorni? Non lo so, io li ho persi. Non so come la società... Che ambiente ha trovato a livello di giocatori? Vabbè, ho trovato rosa cambiata, nel senso che sono arrivati i giocatori nuovi e poi come li ho lasciati sono... Vabbè, io penso che ci possano aiutare tutti questi, sì. Vabbè, è normale che ho chiesto più applicazione, più responsabilità. Perché prima si giocava e c'era tanto tempo per recuperare, ora già tempo ce n'è molto meno e dobbiamo cercare di farcela. Quanto ci crede in questa situazione di classifica? Io ci credo, io penso che si può fare. Io ripeto, è normale che faccio le valutazioni sulla squadra di prima. Poi, penso che i nuovi ci possono dare aiuto, quindi possiamo migliorare e spero che sul piano di gioco non si sono dimenticati di quello che facevamo e che lo sviluppiamo ulteriormente. A tutti quanti non credo, perché ci sono gusti e gusti. Io seguendo anche da casa ho visto che la gente non ce l'aveva tanto con me. Però come ero io responsabile, la società ha valutato diversamente. Tanto che c'è molto entusiasmo, visto che c'è proprio una cosa a chiestare il biglietto per la partita di domani. Ma io vi auguro che ci aiutino. Per me personalmente, di nuovo, io non ci ho mai dato una soddisfazione sul campo nostro. Io mi auguro che ce la diamo ora. Io spero i risultati. Vabbè, li ho visti, li ho seguiti. Hanno fatto calcio un po' diverso e purtroppo non sono arrivati i risultati lo stesso. Anche se erano abbastanza vicini qualche volta. Mister, ha ricevuto la società delle giuste garanzie per il futuro e per far sì che si possa costruire un progetto Zemano? Oppure teme che dopo i risultati negativi le si possa nuovamente dare il pensiero? No, io non ho chiesto nessuna garanzia. Ripeto, io sono venuto perché ci credo alla salvezza, perché penso che questa squadra ce la può fare. e il discorso è che poi la squadra non la salvo io, ma la devono salvare tutti. Domani che partita sarà? Io per dire che sono preoccupato no, però rispetto Empoli come squadra. guarda che sono sei partite che non perde in campionato, è una squadra molto bene organizzata e quindi penso che non sarà la partita facile come a Empoli. Visto appunto l'organizzazione di gioco, è il peggior passario che potete ritrovare domani? Non lo so se è peggiore, ma ripeto, a me piace molto Empoli come impostato, come sono organizzati. Vabbè, non c'è oltre a due squalificati, Eggdard, Donzà, Capuano e González. Si è trattato qualcuno? Non lo so. Noi dobbiamo pensare a noi, quindi dobbiamo cercare di fare i risultati su tutti i campi. All'avversario non ce lo scegli, e per me giocare con Empoli, Cesena o Juventus è la stessa cosa. Con il dottor Storico ci sono stati anche dei campi importanti a livello di staff, tutte le specchie figure sono praticamente andate in viaggio, ci posso spiegare un po' di queste posizioni, alcuni anni non ce li aspettavamo, non so, preparate i portieri. Non lo so, io sono venuto e tornato con il mio staff, e poi c'è gente che... Non c'è stata nessuna sua precisa richiesta? No. Ci saranno novità importanti sulla formazione, perché la vogliamo chiamare la formazione, perché non c'è della mano, però ci saranno novità eclatanti? Eclatanti che vuol dire? Di nuovo, novità non ci possono essere mai, nel senso che tutti questi a disposizione sono tesserati nostri e possono giocare tutti. Poi sono scelte mie che spero di indovinare. Penso che Berchic ci ha fatto bene da quando è arrivato qua. Io penso che abbiamo giocato un po' calcio knife, abbiamo sbagliato tanti gol facili, che sono occasioni che bisogna sfruttare, che bisogna essere concentrati, che bisogna sapere che faccio in quel posto. Ora non mi aspetto che ogni tiro finisce dentro, ma che si gioca con più responsabilità, e non tanto per provare. E' sotto questo profilo che ti parlo con Bello di Salve, che è il migliore di trattore della squadra. Con Avelaro. Bello, ha scritto la mancina. Bello, ha scritto la mancina. e quindi spero che riesce a aiutarci. È stata la sua assenza la Stata per una di tutti i caratteri che ha fatto il caso di una sua rinforzata? Secondo me sì. Ma io? Si aspettava che lui chiamasse? No. Perché hai chiesto? Perché pensavo che il Presidente non tornava sui passi. Grazie. Tre mesi dopo ci puoi dire perché schiarò quella formazione pazza con la Luridus? Io già ve l'ho spiegato e penso. Non è formazione pazza. Giocavamo per chiudere esterni, per me ci siamo riusciti bene su quello che volevamo fare e poi purtroppo poi purtroppo chiamiamo ripartire con Avelaro e Balsano sui esterni non ci è riuscito. Però per me la formazione è logica contro la Juventus. Puoi sbagliare un po' più come livello di collocazione centrocampisti e in realtà pensi? Vabbè, Puoi sbagliare un centrocampista poi lui anche se dichiara che può giocare in tutti i tre ruoli penso che è difficile è poco per me è un esterno anche bravo Una delle tante cose che abbiamo detto sulla squadra in Zemona era che aveva problemi in fase difensiva come ha trovato il giocatore in fase difensiva? Adesso quali sono i quelli che intende utilizzare in questa fase di intervento? Vabbè, fase difensiva adesso che dopo 12 partite pensavamo 20 gol fatti 20 subiti quindi c'era equilibrio che non presupponeva le cose poi altre partite 4-0 con Fiorentina 3 gol dalla Juventus 2 gol da Chievo hanno peggiorato però per me fase difensiva si equilibrava con fase offensiva e poi vabbè, poi il discorso di nuovo si dice che noi giocavamo troppo alti gol da Atalanta e due gol da Fiorentina alla fine partita quando cercamo di recuperare gli altri gol abbiamo preso sempre a difesa schierata sui errori ma se neanche un presidente di un giocatore diceva non diceva che era un'attivizzazione che ci fanno le più dietro per me il concetto è che bisogna difendere sulla palla se la palla è su si difende su se la palla è giù si difende giù è molto semplice però è difficile forse per qualcuno arrivarci mentalmente io me lo auguro anche se le partite che abbiamo non sono tanto facili però ci dobbiamo provare quando è stato esaminato si è detto che questo esame non è un atto in particolare perché c'era diventato capito il rapporto tra lei e la figura dei senatori della squadra che vengono individuati con questi conti costi secondo lei è vera questa cosa o che rapporto ha con questi giocatori per me sono sciocchezze poi non so che dicono loro ma io con loro non ho mai avuto una discussione o un problema penso che problemi erano altri si dice pure si dice che lei adesso è lo Zeman diverso nel senso che ha accettato di nuovo la panchina dopo essere stato isolato probabilmente dieci anni fa Zeman non l'avrebbe fatto io l'ho detto all'aeroporto a qualche tifoso io sono venuto perché so Cagliari quanto gente di Sardegna quanto è attaccata alle tradizioni e se li ha a Cagliari ormai è tradizione e come non ci sono riuscito a dare soddisfazioni prima spero che ce li posso dare ora queste è un motivo principale per me io con nessuno dei giocatori avevo problemi se poi qualche giocatore aveva problema con me non me l'ha mai espresso qual è il problema delle partite in casa perché Cagliari non riusciva mai a vincere nella sua gestione io penso che sul piano di gioco la squadra aveva possibilità di vincere già dalla prima con Atalanta poi lo stesso Sampdoria Milan Genova che abbiamo sbagliato che abbiamo sbagliato rigore avevano sempre possibilità di fare ma non l'abbiamo mai chiusa si è scritto qualcuno ha scritto questa ancora non l'ha fatta a Zema non l'ha portata a Zema poi io darei a partire che su questa lei ha ballato tutte le scelte quante scelte ma veramente io volevo in partenza Cristiano Ronaldo Messina è Messina e poi a parte è normale che la la mia filosofia è cercare di lavorare sui giovani e portarli avanti e molti molti dei giocatori sono stati suggeriti da me altri sono stati scelti dalla società con mio mio avvalamento a posto ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti